Ciao, ciao! Come descrivereste lo stile di Luna? Io direi che è pieno di colori e di braccialetti. Mmm... sì, sì. Seguite il tutorial Soy Luna DIY DIY! Do it yourself! Fallo tu stessa e scoprirete come lunatizzare il vostro stile. Faremo un braccialetto con perline dorate e fili di gomma. Andiamo a vedere come crearne molti e in tanti colori. Vi serviranno perline rotonde dorate, fili di gomma di tre colori diversi, colla vinilica, forbici, nastro adesivo di carta. Fase 1 Tagliate i tre fili di gomma della stessa lunghezza. Fate un nodo a un terzo dei fili e fissatelo al piano di lavoro con il nastro adesivo. Fate una treccia semplice per 10 giri. Fase 2 Infilate nove perline nel filo centrale. Poi fate scorrere in alto una perlina e intrecciate gli altri due fili in questo modo. Fate scorrere la seconda perlina e così via fino a quando avrete inserito le nove perline. Fase 3 Proseguite con una treccia per 10 giri. Fate un nodo di chiusura e staccate il bracciale dal piano. Fase 4 Mettete un puntino di colla vinilica sul nodo di inizio e fine. Quando è asciutta, tagliate due fili lasciandone solo uno all'inizio e alla fine. Sono incredibili, no? Se ve li mettete su tutte e due le braccia ne potete usare moltissimi. E poi potete farne altri e regalarli alle vostre amiche, alle vostre sorelle. Avanti, fate i braccialetti. Soy Luna DIY Do It Yourself Grazie a tutti.